Venerdì 16 luglio alle ore 11 il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni inaugura il nuovo Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni, sito in Sassano in località Vallepiana. All'evento parteciperà l'assessore all'agricoltura della Giunta regionale della Campania, Onorevole Nicola Caputo, ubicato in uno chalet immerso nella natura due passi dalla Valle delle Orchidee. Il museo intende principalmente costituirsi come una emeroteca delle orchidee spontanee, della flora spontanea, del paesaggio e delle attività dell'uomo rurale, una germoteca delle specie vegetali spontanee e delle antiche cultivar di cereali, ortaggi e frutti dell'area parco e un erbarium di exiccata delle specie vegetali. All'importante iniziativa parteciperà anche il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino.